Il libro intitolato La città d'argento racconta la storia di una studentessa liceale di 14 anni chiamata Greta che la sua più grande passione è il muoto. Il padre di Greta, chiamato Edin, è di origine bosniaca, precisamente della Rebrenica, che come religione è musulmana. Edin ha vissuto la guerra in Bosnia-Herzegovia, ma non riesce a ritornare nella sua terra, neanche per fare visita alla mamma, che è malata, che però ora vive a Sarajevo. L'autore del libro, chiamato Marco Erba, è nato in provincia di Milano, che dopo la maturità e la laurea in lettere, si è messo a lavorare per anni con un esmalista di cronaca, che come ha detto stampa, e dal 2007 è diventato insegnante di lettere in un liceo. Come il libro è un libro carino e bello, molto interessante, che ti prende... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!